RINGUARTO DI GRAN MASÈ RINGUARTO DI GRAN MASÈ RINGUARTO DI GRAN MASÈ Gastone e Fabio Cavazzana a detta di tutti gli esperti del settore sono considerati tra i massimi esponenti del biliardo spettacolo mondiale effetti, frustate, gran masse e rimpalli non hanno segreti per questi due campioni non hanno segreti per tutti gli esperti del settore non hanno segreti per tutti gli esperti del settore non hanno segreti per tutti gli esperti del settore